At night in my house? Fine, senza bambino però eh? Oh sure, ok. Ciao baby. Pardon madame, je m'appelle Nestor di Cosimo, pittore psichedelico. Mi scusi, ho da fare. Ah no, dato che non volendo ho sentito la sua frase, dato che mi interessa di pittura, volevo chiedere se potevo essere anch'io invitato a vedere quei quadri. Guardi, che si tratta di una musta strettamente personale, gli inviti sono riservati. Ciao Nandi, grazie eh. E le jolie? Sì. Parlez-vous français? Ma perché devi parlare francese? Questa c'è da fare. A me di parlare romano mi basta e mi avanza. Fuma? Chi io? Così mi vaderebbe vista. Non hai mai provato? Ma che stai dicendo? Non vedi che è una creatura? Perché io ho cominciato che avevo 12 anni e per una volta poteva essere divertente, no? Ah, mo ho capito. A droga. Vabbè, ce sto. Ci stai a fare che cosa? Ma non ti vergogni, alla tua età, così diventi più cretina di quello che sei. E tutt'al più diventerò cretina come... Vediamo se mi ricordo. Gesù, Giuseppe Maria. Come sta, nonno, porcore? Voleva scegne per forza. Ha voluto un fiacco di vino. Portano altro litro e... Questi litigano per averci la scusa di far pace la sera all'osterior. Non so di che ne parla... Ecco la gazzosa Ervino. Ve ne ho messo pure da più. Acci tua. A tasta di tu sorella. Ah!